Si chiude il cerchio investigativo nei confronti di due associazioni per delinquere composte da persone di nazionalità marocchina e finalizzate alla detenzione e allo spaccio di grossi quantitativi di cocaina e hashish. L'operazione, portata a termine da 60 uomini del Corpo Forestale dello Stato su disposizione della Procura Distrettuale Antimafia dell'Aquila, è il prosieguo dell'operazione Angizia, che aveva portato nelle scorse settimane all'arresto di una serie di pusher che appunto lavoravano per queste due associazioni malavitose. A finire in manette nove persone, di cui cinque arrestate e portate in carcere ad Avezzano, due ai domiciliari ed una che è stata raggiunta dal provvedimento restrittivo mentre già era in carcere per scontare altra pena. Il sodalizio criminale aveva un giro di spaccio notevole, da 75 mila euro a settimana, e smerciava prevalentemente cocaina molto pura. La polvere bianca veniva approvvigionata nell'Interland bresciano, mentre l'ashish veniva reperito in Campania. Le investigazioni, consistite in pedinamenti e intercettazioni ambientali e telefoniche, hanno di fatto sradicato completamente i due sodalizzi, i cui capi avevano intessuto le basi per matrimoni fittizi con italiane. Uno dei quali è anche andato a buon fine, motivo per il quale la donna che è convolata a nozze con il boss di uno dei due sodalizzi, una nota cocainomane della zona, è stata denunciata. Dalle investigazioni si è accertato che la donna, in cambio del finto matrimonio, riceveva costantemente dosi di cocaina. Quello che, come abbiamo detto in conferenza stampa, risalta dalla lettura di questa vicenda è la facilità con cui questi gruppi possono radicarsi nel territorio, trovare immediatamente un mercato per il proprio prodotto, che in questo caso era la cocaina, rifornirsi con estrema facilità e a prezzi estremamente contenuti e ottenere degli utili economici che ovviamente rendono del tutto anti-economico svolgere attività lecite, quali solitamente gli extracomunitari di origine marocchina svolgono, e cioè nel fucino, l'attività agricola. Un giorno di spaccio vale quanto un mese di lavoro durissimo all'interno del fucino. Possiamo dire che l'organizzazione è stata sradicata completamente o ci saranno degli ulteriori sviluppi in questa inchiesta? Ci saranno sviluppi. Ancora quindi non è finita? No, non credo che sia finita. Ancora quindi non è finita.